Sante messe, pellegrinaggi, feste ma anche una fiera con prodotti tipici del territorio presentate a Villa Caprile le ricche iniziative che si terranno ad agosto nel santuario del Beato Sante a Monbaroccio ad organizzarle l'associazione Il Sole nel Cuore del presidente Damiano Bartocetti. Il Beato Sante sovrasta le colline, le valli del Metauro e del Foglia tutti gli anni il mese d'agosto le feste del Beato Sante la fanno da padrone ma direi che abbiamo gettato le basi per un progetto molto più grande, un progetto di comunità con l'associazione Il Sole nel Cuore e la fondazione dove lavoreremo insieme per creare una comunità forte nel nostro territorio provinciale, una comunità che possa fare la differenza, che possa essere diversa, che possa aiutare le persone bisognose, le persone fragili, questo è il nostro obiettivo. Partendo dalle feste di agosto chiediamo la protezione del Beato Sante, del nostro Signore che ci aiuti e che ci guidi e che ci illumini in questo percorso. Bellissimo, abbiamo già iniziato il primo mattone con il restauro del refettorio antico grazie al contributo della Regione Marche, continueremo con il restauro di tante altre parti ma siamo nel fulcro degli eventi del mese di agosto. La prima domenica dedicata ai bambini, la seconda al pellegrinaggio votivo di Monbaroccio, soprattutto seguiteci sulla nostra pagina Facebook, il Santuario del Beato Sante e a breve sarà aperto anche un sito. Un ringraziamento particolare va ai frati francescani minori del Santuario del Beato Sante, al nostro arcivescovo Sandro Salvucci per la grande disponibilità e per essere veramente un pastore eccellente della nostra Chiesa Cattolica. Il programma ricco di eventi nasce grazie alla sinergia dell'esercito dell'Istituto Agrario di Pesaro, un progetto che si avvale anche del sostegno del Comune di Monbaroccio con gli eventi del mese di agosto il Santuario del Beato Sante, oltre ad essere un luogo di culto, sarà anche uno spazio di interazione spirituale e culturale. Io credo che quello che si stia facendo al Beato Sante sia un orgoglio non solo per Monbaroccio ma per tutta la comunità provinciale e regionale, un santuario unico nel suo genere che ha tantissime potenzialità, ringrazio naturalmente l'associazione che ha collaborato, i frati minori del Beato Sante che stanno sempre a nostro accanto e tutti i volontari che girano intorno alla realizzazione dei nostri eventi. Siamo passati da un mese dedicati alla cultura, con la scienza e quant'altro, entriamo in agosto con lo spirito e il santuario nel cuore. Quindi scienza e fede che si incontrano, scienza e fede che diventano anche a Monbaroccio sinergiche quando poi la storia le vedeva in continua contraposizione. Andiamo avanti così, gli obiettivi li abbiamo posti oggi, credo che oltre a questo bisognerà guardare oltre, guardare un percorso verso Assisi, un percorso con il recupero della Fiera del Bestiame che coinvolge l'Istituto Cecchi che oggi ci ospita e che ringrazia nuovamente per le grandi collaborazioni che ha avuto con Monbaroccio, pensiamo all'alternanza scuola lavoro, pensiamo al bosco, pensiamo a tutto quello che è l'arte contadina, la civiltà contadina che viene fuori da questo istituto e che a Monbaroccio è ben rappresentata dai nostri meravigliosi agricoltori. Vi aspettiamo a Bietto Sante nel mese di agosto perché per ogni weekend ci sarà qualcosa da ritrovare e da ritrovarsi.